Ancora interviste con gli espositori che sono protagonisti, insieme ai futuri sposi, di questa edizione di Abruzzo Sposi. Qui siamo nello spazio di gem, eventi e tradizioni. Con chi parliamo e di cosa parliamo? Allora, sono Mario, si tratta di una fresca realtà che tratta tutti i prodotti relativi al territorio, prodotti personalizzabili, bomboniere e offriamo oltre a ciò servizi per gli eventi, di cui siamo già una realtà affermata, così come gli altri prodotti. Serviamo Fotoboot, 360 e altri servizi molto particolari e originali, comunque sempre attinenti al mondo degli eventi. Eventi, quindi matrimonio, ma non soltanto. Per gli sposi ci sono diverse possibilità e poi avete modo di conoscerli meglio durante gli spazi fiera. Ecco, Abruzzo Sposi, da diversi anni, è una realtà consolidata che unisce il vostro mondo professionale con gli sposi. Che valutazione diamo a questa organizzazione quest'anno? Allora, io mi trovo sempre comunque benissimo con l'organizzazione e con gli organizzatori. Qualsiasi richiesta viene sempre approvata, comunque si dà sempre il massimo agli espositori. Ciò che io rimarco sempre ed è importante per noi è comunque la selezione, perché è un evento che riguarda gli sposi e sono fermamente convinto che sia importantissimo il fatto che sia dedicato agli sposi, esclusivamente agli sposi. Magari gli accompagnatori sono certamente benvenuti, ma per noi questo è fondamentale. Quindi no dispersione, molta concentrazione. C'è qualche suggerimento che vorresti dare? Allora, suggerimento riguardo gli spazi museali. Sono sicuramente molto accoglienti, molto affascinosi, chiaramente. Certo è che ci potrebbe essere un po' di dispersione, un po' diciamo vanno in contrasto magari un po' con tutto ciò che riguarda gli spazi attiranti al museo vero e proprio. Quindi le teche e tutte le altre cose chiaramente potrebbero essere un po' invasive a volte. Non è il nostro caso, però magari capisco per gli altri operatori. Facciamo riferimento alla delicatezza dell'ambiente, che essendo un ambiente storico va giustamente protetto e tutelato. È una cornice di effetto, sicuramente sì. Però Mario rimarca l'attenzione dovuta a certi dettagli. Forse questo però anche nel pubblico ispira maggiore attenzione e cautela e anche delicatezza. Assolutamente sì. Poi chiaramente i gusti sono soggettivi. Sicuramente è bellissimo e potrà anche essere un'occasione per far conoscere al meglio il nostro territorio, proprio per chiudere il cerchio. Nella tua esperienza con Abruzzo Sposi hai notato miglioramenti partecipando qui in fiera? Sì, consolidamento. Consolidamento, che ormai è una fiera che quando io personalmente parlo con gli sposi e annuncio che andrò in fiera, gli sposi sono già al corrente, conoscono già la fiera, quindi è già una realtà presente e ben conosciuta. Quindi consiglieresti a altri colleghi, anche agli altri settori merceologici, di partecipare? Sì, assolutamente sì. Grazie Mario, buon lavoro a te e buon wedding. Grazie anche a voi, buon lavoro.